Due giorni senza afa e con temperature più sostenibili. Dopo i giorni di gran caldo, l'istabilità che nei giorni scorsi ha interessato alle zone montuose ora potrebbe raggiungere anche la costa. Se parliamo delle zone piuttosto calde, quali la Valle Peligna, le principali valli della nostra regione, la diminuzione sarà dell'ordine di 4-5 gradi rispetto ai giorni scorsi. Diminuzione meno avvertibile invece lungo la fascia costiera, dove però i tassi di umidità torneranno ad essere su valori accettabili. Una pausa per il caldo, ma non la definitiva scomparsa. Già la prossima settimana si avvertirà la nuova ondata. A partire da mercoledì torneranno ad aumentare le temperature perché l'area di alta pressione, in attenuazione nelle prossime ore e nella giornata di domenica, tornerà a riprendere vigore e di conseguenza le temperature inizieranno, anzi torneranno nuovamente a salire. Però insomma sarà un fine settimana comunque con temperature che torneranno almeno in linea con le medie stagionali su molte zone della nostra regione e i tassi di umidità si abbasseranno soprattutto lungo la fascia costiera. Però ovviamente saremo interessati dal passaggio di, diciamo, la coda di una perturbazione che attualmente sta interessando le regioni settentrionali. Di conseguenza non si escludono dei fenomeni di instabilità pomeridiana, in particolar modo sulle zone interne e montuose, ma nel corso del pomeriggio sera questi fenomeni potrebbero estendersi anche sul versante orientale e localmente potrebbero interessare anche la fascia costiera.